Sono giorni di proteste in tutta Italia per i precari dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per denunciare la scarsa attenzione delle istituzioni politiche e scientifiche verso il precariato nella ricerca. Da giorno 4 dicembre i ricercatori e tecnologi precari dell'Osservatorio Astrofisico di Catania hanno infatti occupato la direzione dell'Istituto. I 23 precari che lavorano all'Osservatorio Astrofisico di Catania rappresentano un'eccellenza sia nell'ambito di progetti di ricerca di rilevanza internazionale sia nell'attività di divulgazione scientifica che contribuiscono alla crescita culturale del nostro territorio. Anni e anni di trascuratezza da parte del governo e della politica verso la situazione della ricerca in Italia hanno determinato una situazione critica dal punto di vista delle nuove assunzioni negli enti di ricerca e nel lavoro ovviamente che viene portato avanti dai ricercatori non a tempo indeterminato. Così molte sedi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica tra cui quella nostra di Catania stanno in questi giorni compiendo azioni forti di protesta e di sensibilizzazione verso il pubblico e verso i ricercatori a tempo indeterminato degli enti proprio per rimarcare ancora in maniera più forte la situazione di disagio che si è venuta a creare. Per questo motivo sia noi e gli osservatori di Catania ma altre sedi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica abbiamo temporaneamente sospesso le nostre attività e stiamo cercando di concretizzare quanto più possibile azioni rivolte ad ottenere più fondi verso gli enti di ricerca e quindi la possibilità di nuove assunzioni. Circa il 40% dei ricercatori sono precari in questo momento in Italia. Esattamente, questo è un numero allarmante perché significa che la ricerca in Italia le appoggia pesantemente sul lavoro di persone che non hanno assolutamente diritti lavorativi. Questo ha fatto sì che è venuta a creare nel tempo una situazione quasi di schiavitù verso queste persone che portano avanti il lavoro dell'ente ma non hanno niente di riconosciuto. Una sospensione delle attività che durerà fino a quando? Sicuramente fino alla fine dell'anno perché il nostro obiettivo è ottenere più fondi e in questo momento c'è in discussione in Parlamento la legge finanziaria che è il vero strumento grazie al quale possiamo ottenere qualcosa in più. Quindi la nostra pressione è rivolta esattamente a questo obiettivo qua cercare di ottenere più fondi e quindi cercare di ottenere più posizioni. Il budget messo a disposizione dallo Stato in legge di bilancio 2017 è infatti sufficiente per assumere stabilmente meno del 25% degli 8.800 ricercatori precari. Questo per l'INAF si tradurrà in una manciata di posti insufficienti a sanare la situazione dell'ente. Una vera beffa per i precari a dispetto dei proclami con cui i ministri madì e fedeli annunciano di avere risolto il problema del precariato nella pubblica amministrazione. I precari dell'osservatorio pertanto chiedono alle istituzioni misure economiche straordinarie adeguate al superamento del precariato in INAF, oltre ad un percorso lavorativo chiaro che non prevede il reiterato abuso di contratti di lavoro atipici e privi di tutela.